Hanno confessato nel corso della notte dopo il provvedimento di fermo emesso dalla procura di Castrovilla rimessi alle strette dall'interrogatorio degli agenti del commissariato di Corigliano Rossano e dalle numerose prove raccolte al loro carico da parte degli inquiventi. Ad uccidere Antonio Barbieri sono stati due pregiudicati, Cristian Filadoro di 26 anni e Vincenzo Fornataro di 32. I particolari del delitto sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata in questura a Cosenza alla presenza del commissario di Corigliano Rossano Giuseppe Massaro e del dirigente della squadra mobile Fabio Catalano. L'omicidio aggravato dalla premeditazione è maturato per motivi passionali perché Barbieri continuava ad insidiare l'ex compagna alla giovane commessa di una penetteria antistanti il luogo dell'esecuzione, oggi fidanzata con Filadoro. Proprio la ragazza, la sera del 12 gennaio, ha informato Filadoro della presenza di Barbieri. L'uomo è sopraggiunto nel volgere di pochi minuti, si è avvicinato alla vittima seduta a bordo della propria Mercedes e lo ha colpito alla testa con due proiettili calibro 7,65. Un'azione spregiudicata compiuta davanti a numerosi testimoni che però non hanno collaborato con i magistrati. C'erano diverse persone presenti e non solo da chi non ha visto praticamente nulla, da chi diceva che era ubriaco e non ricordava nulla e a chi invece era presente ha reso dichiarazioni totalmente infondate rispetto a quella che era la realtà dei fatti. Le indagini coordinate da Eugenio Facciolo e dal sostituto Giovanni Tedeschi non si sono fermate davanti al muro di Omertà in breve tempo grazie anche alla visione di numerose immagini della videosorveglianza sequestrate in tutta l'area è stato individuato il veicolo utilizzato dei killer, un Alfa 146 di colore nevo riconducibile a fila d'oro gravato da numerosi precedenti per spaccio di droga, ricettazione e reati contro la persona e sottoposto per questo all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'auto è stata rinvenuta in una zona di campagna ed era pronta per essere distrutta. Era occultata ed era pronta per essere bruciata quindi siamo arrivati appena in tempo, già l'avevano ripulita, già avevano già probabilmente fatto qualcosa per far sparire tutto però siamo riusciti a beccarle e questo è stato fondamentale perché poi abbiamo individuato chi poteva essere l'autista dell'auto, il motivo per cui è stata uccisa quella persona. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione di altre due persone per le quali nelle prossime ore potrebbe scattare l'accusa di favoreggiamento. L'operazione è stata portata a termine da Facciolla proprio nella giornata in cui anche il suo nome è stato associato ad una inchiesta della Procura di Salerno nei confronti di 15 magistrati delle procure calabresi. Noi ieri abbiamo lavorato regolarmente, io personalmente ieri ho fatto interrogatorio, ho fatto le mie attività, non credo che ci siano grandi turbamenti almeno per quello che riguarda il mio ufficio, la mia posizione, poi per il resto insomma avete avuto già indicazioni da chi di dovere quindi. Salvatore Bruno per la Cineus 24 Ci sarebbe l'amore conteso per una donna dietro il barbaro omicidio di Giovanni Lucante, 37enne di Corazzo, frazione del comune di Scandale in provincia di Crotone. L'uomo, secondo quanto appreso, sarebbe stato ammazzato a colpi d'ascia, particolari e ghiaccianti emersi nel corso della mattinata dopo che il presunto colpevole del delitto si è consegnato ai carabinieri della locale stazione. Si tratta di Giovanni Voce, di 31 anni, che avrebbe confessato l'omicidio aiutando quindi gli investigatori a recuperare il corpo senza vita della vittima. Il delitto è stato compiuto in località Santa Anastasia della frazione di Scandale e avvenuto quindi per motivi passionali al culmine di una lite tra i due uomini. Sul luogo dell'omicidio, in aperta campagna, sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Crotone che hanno fermato il presunto assassino. L'uomo, Giovanni Voce, è rimasto per tutta la mattinata nella caserma dei carabinieri. La vittima, secondo quanto appurato dai militari dell'arma, lavorava in un terreno di proprietà della famiglia del presunto omicida. Secondo quanto emerso, l'omicidio sarebbe avvenuto nella tarda serata di ieri. La famiglia di Giovanni Lucante, infatti, aveva chiesto l'intervento dei carabinieri della stazione di Scandale, segnalando la scomparsa dell'uomo, che non era rientrato a casa. I militari dell'arma avevano ricostruito i movimenti compiuti nel pomeriggio da Lucante ed erano arrivati a parlare con un amico, con il quale la vittima si era incontrato. Sentendosi il fiato sul collo, Giovanni Voce questa mattina ha confessato l'omicidio, portando i carabinieri sul luogo del delitto nella campagna di Santa Anastasia, facendo così di trovare il cadavere. L'uomo è stato sottoposto a fermo da parte dei carabinieri. Francesca Altomonte per la Cineus 24. Il sorriso non gliel'hanno portato via? Assolutissimomente no, ci vuole altro. Maurizio Mazzotta non ha paura. Maurizio Mazzotta ci mette la faccia, ci accoglie nella sua casa, ha un proiettile conficcato nel piede. Qualcuno, sbucato dal buio, incappucciato e riparato da un ombrello, gli ha sparato contro una raffica di calibro 22. Stava abbassando la sala cinesca della sua attività, la Hydrocolor, lungo la statale 18 a Vibo, Valencia. Nel complesso siamo pure stati fortunati perché non ha riporto problemi seri, ma comunque ha creato grande preoccupazione all'interno della famiglia. È gentile, cortese, ecco sua moglie ed i suoi tre figli, ecco l'armonia che la protere via criminale ha spezzato. Mi preoccupa un pochino di più e non le nascondo, sono rimasto molto deluso dall'assenza invece delle autorità politiche, che per quello che mi riguarda in questa fase sono assenti completamente. Invece al contrario rivolgo un ringraziamento pubblico alle forze dell'ordine, che sono state molto vicine, molto attente e molto operative per quello che mi riguarda. Le autorità politiche assenti completamente. Tra la statale 18 e l'area industriale alla periferia sud di Vibo, Valencia, sono sei gli attentati a scopo intimidatorio e quasi certamente estorsivo, che si sono consumati in meno di un mese. Esercizi commerciali, bartabaccheria, ferramenta, aziende di trasporti. Non tutti sono come Maurizio Mazzotta, non tutti hanno voglia di parlare. Non chiamami i carabinieri, deve cancellare quello che ha registrato. Se vuoi chiamare i carabinieri chiamate, c'è qualche traccia che possiamo riprendere. Ma sono entrati, che hanno fatto? Non sapete noi. Lo Stato però, a queste latitudini c'è. Le forze dell'ordine intensificano i controlli, i carabinieri soprattutto assediano sempre di più la zona. Nel corso del 2018, a se stato colpi pesantissimi al crimine organizzato, il 2019 potrebbe essere l'anno dello tsunami, quello in cui si potrebbero capitalizzare i pentimenti eccellenti di Raffaele Moscato, Andrea Mantella ed Emanuele Mancuso. Si potrebbero seppelire sotto secoli di carcere e montagne di ergastoli almeno quattro lustri di mafia. Contestualmente si potrebbe leggere anche l'evoluzione del crimine. Quello delle nuove leve che si erano fatte strada alle spalle dei vecchi boss. Nuove leve e nuovi aspiranti boss che provano a riportare la paura. Quando non si subisce un'azione diretta probabilmente non ci si preoccupa, ripeto, in maniera egoistica. Oggi vivendo la situazione in prima persona c'è un momento di riflessione effettivamente, ci mancherebbe altro. Però il mio consiglio è quello di reagire, sicuramente non cedere, anche perché è guai se fosse così. Io dico che nasciamo liberi e dobbiamo agire in modo di essere altrettanto liberi. Cristina Iannuzzi per la CNews24 Si apre adesso un vero problema di ordine pubblico a seguito di quanto deciso nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza insediato nella giornata di ieri dal prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino. Sollecitare l'azienda da una parte alla messa in sicurezza di tutti quegli alloggi che sono stati vandalizzati e secondariamente affrontare il problema della esecutività di alcuni sfratti che noi abbiamo per occupazioni abusive nell'intero quartiere che sono per un numero consistente. Si adotterà dunque il pugno duro nei confronti degli abusivi che occupano gli alloggi di edilizia popolare in Viale Isonzo. Il rappresentante governativo, d'intesa con i vertici di Aterp Calabria e sulla base di quanto previsto dal decreto sicurezza ha infatti dato il via libera alle procedure di sgombero che interesseranno per ora il solo ma popoloso civico 222. Sono un numero consistente, sono superiori alle 80 unità. Non sarà attività semplice convincere gli abusivi, tutti di etnia Rom, ad abbandonare le abitazioni occupate. Con ogni probabilità sarà un'operazione supportata dalle forze dell'ordine, ma ancora più enigmatica rischia di diventare la sistemazione di oltre 80 nuclei familiari nella città di Catanzaro. Noi abbiamo un titolo esecutivo per cui dovremmo farlo chiaramente seguire. Il problema è chiaramente che 80 persone, 80 famiglie, nuclei familiari, 80 unità cominciano ad essere un problema. Per cui è chiaro che prima di iniziare questa cosa ci deve essere un coordinamento con il Comune di Catanzaro per vedere se all'interno di queste ci debbano essere i nuclei familiari per i quali il Comune di Catanzaro dovrà trovare sistemazioni alternative. Luana Costa per la Cinius 24. Arriva puntuale, come da programma, il ministro dei beni culturali a Cosenza una visita nella parte antica della città annunciata già da tempo da Alberto Bonisoli per illustrare programmi e progetti che si potrebbero attuare con i 90 milioni di euro deliberati dal Cipe. Il membro del governo, accompagnato dal senatore Nicola Morra, comincia il suo tour nella parte vecchia del capoluogo e lo conclude al Museo di Ocesano. Poi la conferenza stampa, programmata nella sede dell'Accademia Cosentina. Alla presentazione, affidata dal Presidente dell'Associazione, sono seguite tante domande da parte dei cittadini cosentini su quelle che sono le potenzialità della città e quelle che invece sono le reali condizioni di essa. Ma il ministro è fiducioso. Il potenziale c'è, però secondo me è un potenziale che per essere sfruttato ha bisogno di un intervento sistematico. Il pericolo di questa situazione è farne un pezzo o fare una cosa e poi diventare matti come, non so, alcune strutture diciamo modernizzanti che ho visto nel centro storico, magari potevano avere un senso. Non voglio criticare nessuno, però oggi onestamente si vede che non aiutano quello che è lo sviluppo. Quindi è un progetto, a mio avviso, che è meritorio, cioè un'occasione per la città che io assolutamente coglierei, comincerei dall'urbanistica. Soddisfatti per la visita del Ministro a Cosenza, i componenti dei tanti comitati intervenuti all'appuntamento, ma l'assenza del primo cittadino Mario Chiuto non è certamente passata inosservata. Molte le polemiche sollevate nei giorni scorsi, ma Bonisoli smentisce qualsiasi disegno politico strategico. Io ho cambiato, tipo tre volte la mia agenda, cambiando gli orari del Consiglio dei Ministri. E quando ho capito che il Consiglio dei Ministri sarebbe stato fino a tarda sera, sapete di che cosa abbiamo parlato ieri, quindi se mi permettete avevo un minimo di priorità. Stefania Valvedere per l'AC News 24. È toccato questa volta al Ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, procedere allo sfoglio delle pagine del Codex Purpureus Rossanensis, un rituale che si svolge a cadenza periodica per preservare dalle insidie del tempo il prezioso Evangeliario Patrimonio Unesco custodito all'interno del Museo di Ocesano, nel cuore del Centro Storico di Rossano. Il capo del MIBAC, in visita lampo a Corigliano Rossano, prima di raggiungere Matera, ha rimarcato la necessità di promuovere e mettere in rete il grande patrimonio artistico calabrese. Un obiettivo questo che sembra essere in linea con le direttive del Governo. Secondo me le priorità sono due. La prima, se abbiamo in mente quelli che sono i beni, dobbiamo proteggerli il più possibile. La seconda cosa, e secondo me in questo momento potrebbe essere addirittura più interessante, sono le possibilità di lavoro. La cultura può essere un modo per creare delle occasioni di occupazione. Noi possiamo impiegare dei fondi che ci sono affinché si creino delle situazioni come quella che abbiamo visto qui. Uno dei punti chiave, rimarcato dal Ministro, per valorizzare e rilanciare il Codex, così da renderlo disponibile alla fruizione del mercato del turismo, è senza dubbio la sua governance. Oggi viviamo in un mondo dove la gestione dell'informazione è fondamentale. Avere un tesoro come questo qui a Rossano e non farlo sapere a tutti il mondo è un peccato. Non è semplicissimo perché siamo sommersi da una ridondanza di informazioni. Questa è una cosa di cui nel nostro piccolo, forse a livello del Ministero, possiamo dare una mano. Marco Lefosse per la CNews24 L'appuntamento a Cosenza con Matteo Ricchetti, sostenitore nella corsa alla segreteria nazionale del PD di Maurizio Martina, dopo che egli stesso aveva avanzato la propria candidatura, arriva all'indomani del commissariamento del partito calabrese. Non è tenero il deputato con i dirigenti locali e non lo è mai stato, neppure in passato, sul provvedimento adottato dal Presidente Orfini a una posizione ben precisa. Tardivo perché questa regione ha problemi da molto tempo. Se questo commissariamento serve ad azzerare non tanto le persone, quanto le pratiche sbagliate e a ripartire su logiche di aggregazione, iscrizione e proposta serie, trasparenti e pulite, allora ben venga una fase in cui riordiniamo idee e organismi del partito. In Calabria le posizioni di Ricchetti sono sponsorizzate da Marco Ambrogio, consigliere comunale a Palazzo dei Bruzzi, in procinto di ricandidarsi al Consiglio provinciale, molto critico nei confronti dell'establishment attuale. Un battitore libero, convinto che questo PD oggi agonizzante, può tornare ad attrarre consensi solo cambiando radicalmente uomini e obiettivi. Abbiamo iniziato questa avventura accanto a Matteo Ricchetti, con i circoli diversamente, proprio perché vogliamo interpretare diversamente il partito. Sicuramente lo si deve fare con uno spirito innovativo, con gente nuova, quindi bisogna andare nella società civile, allargata direi anche nel mondo delle associazioni e al mondo dei professionisti, proprio per far nascere finalmente il partito che abbiamo sempre desiderato. Salvatore Bruno per la CNews24 È stato un anno difficile per il territorio della provincia di Reggio Calabria, intenso il lavoro del Palazzo del Governo che ha dovuto fronteggiare diverse emergenze. Oggi il prefetto Michele Di Bari ha illustrato in conferenza stampa i risultati conseguiti e gli interventi messi in campo. Tra tutti spiccano quelli per il superamento del ghetto di San Ferdinando, che attraverso l'istituzione di un recente tavolo prefettizio, vedrà l'assegnazione ai migranti di 30 immobili confiscati all'Andrangheta. Costante poi il rapporto con le forze dell'ordine per la serie di atti intimidatori subiti dagli imprenditori locali. Il problema più importante che noi dobbiamo davvero sconfiggere, superare, riguarda l'Andrangheta, riguarda gli atti intimidatori, riguarda cioè la sicurezza dei cittadini, la protezione dei testimoni di giustizia, cioè tutte le persone che con lo Stato vogliono proficuamente, legalmente dialogare. Un altro problema da risolvere subito è quello della sanità della Locride ed è per questo che il prefetto ha annunciato che insieme al neocommissario Saverio Cotticelli incontrerà a breve i sindaci dei vari comuni per stilare un piano di programmazione. Perché ritengo che quella popolazione debba sentirsi anche confortata dallo Stato che in materia di sanità lì ha delle difficoltà oggettive. Angela Panzera, Pralacinius24 Noi abbiamo investito molto sulla internazionalizzazione. Non è un caso che le esportazioni sono cresciute in modo progressivo nel corso di questi anni. È intervenuto via Skype anche il presidente della regione Mario Oliverio, sottoposto obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, alla conferenza stampa alla cittadella regionale a Catanzaro di presentazione dei programmi di promozione che la regione si avvia a realizzare con le camere di commercio italiane all'estero e con il sistema camerale calabrese. Lo stesso governatore, aprendo i lavori, ha spiegato che la regione ha approvato 12 progetti con camere estere per il 2018, 20 saranno avviati con altrettante camere nel 2019. Copriamo i paesi indicati nell'avviso, nella manifestazione di interesse che abbiamo pubblicato come Regione Calabria. Si tratta, copriamo davvero diversi continenti. Per il 2018 abbiamo allocato 1.800.000 euro di risorse disponibili e faremo lo stesso anche per l'annualità successiva. Un'iniziativa della quale la Calabria vanta il primato, che permette quindi di promuovere la Calabria all'estero a 360 gradi, incrementando l'internazionalizzazione commerciale e produttiva delle aziende calabresi. Sono tutti progetti importanti e innovativi che mirano e puntano a seguire dalla fase iniziale quelle aziende che hanno potenzialità nell'esportare i prodotti che producono in Calabria, con le camere di commercio che sono capaci di indicare quei mercati e indicare quali prodotti, principalmente, quei mercati possono accettare e soprattutto possono far sì che trovino un riscontro positivo. Il mondo degli effetti speciali a Vivo Valencia, i più importanti interpreti italiani di questa professione, nei locali della Camera di Commercio, che ha fatto da casa per diverse settimane ad una mostra in onore di Carlo Rambaldi, il più grande effettista di tutti i tempi, il papà di E.T., l'extraterrestre, Alien e King Kong. Un evento unico, promosso dall'ente camerale su input della Fondazione Rambaldi, che nell'ambito del premio Limen ha voluto regalare ai giovani del territorio anche dei workshop completamente gratuiti, offrendo loro un'esperienza didattica formativa unica in un settore indubbiamente inusuale ed attrattivo. Avranno l'opportunità, questi vibonesi, di poter capire se la loro passione può diventare un domani un lavoro proprio nel novero di questo rapporto che la Camera di Commercio vuole e deve avere sul territorio. Un mondo che ti lascia a bocca aperta, che supera l'immaginazione, che fa del fantastico, reale, la propria prerogativa. Noi non possiamo dire che non si può fare. Siamo quelli che devono farlo e devono saperlo fare. Carlo era uno di questi. Lui impiegava ore e giorni per elaborare poi una soluzione soddisfacente che potesse servire poi per quel dato film o quella data scena. C'è un mondo di persone che lavorano, c'è uno studio, ci sono delle regole. Insomma, la gente vede già tutto pronto. Per questo c'è lo stupore di vedere come si creano. Alessio Buon Passo per la CNews24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. La CNews24. Edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30. La CNews24. La Calabria che fa notizia. La CNews24. La CNews24. La CNews24. La CNews24. Le CientI mi nasce più a la CIE. Per